Un albanese di 29 anni è stato fermato dagli agenti della squadra mobile di Bari con l'accusa di aver ucciso la 71enne Rosa Maria Radici, assassinata il 13 novembre scorso nella sua villetta di Bari, Palese. Si tratterebbe di un conoscente della famiglia che avrebbe agito probabilmente per vendetta personale. Il giovane è gravemente indiziato di omicidio volontario. La vittima fu prima soffocata dall'assassino che con le mani le tappò la bocca, poi fu strangolata a mani nude e infine incappucciata con un sacchetto di plastica assicurato al collo con un nastro adesivo.